Senti, io ora ti leggo due dichiarazioni testuali dei due piloti Ferrari e poi ti porgo una domanda alla fine della lettura di queste dichiarazioni. Sono dichiarazioni rilasciate dopo il Gran Premio d'Ungheria, ricordiamo Sainz quarto, Leclerc sesto, Leclerc a un certo punto la gara era primo, Sainz era terzo. Diciamo pure che la Ferrari per come stavano andando le cose soffriva molto, la temperatura bassa del circuito non avrebbe vinto, però insomma non avrebbe sicuramente collezionato un quarto e un sesto posto, anzi sicuramente si piazzava in posizioni migliori. Porto con Sainz che dice, testuale, è chiaro che in gara c'era qualcosa che non andava con la macchina, con le gomme, in queste condizioni di pista fredde abbiamo fatto un ulteriore step indietro anche rispetto al sabato. Per me nessuna gomma funzionava, neanche la soft, non andava nulla, nessuna gomma e quando il passo è così difficile anche la strategia si complica. Invece Leclerc dichiara sempre testualmente, aveva il passo con le medie, poi si era presa la decisione diversa di usare le bianche, abbiamo perso tempo, dovremo parlarne con il team, c'è grande rammarico. Allora è chiaro che Leclerc è più scottato della situazione, Sainz meno, però questi sono due piloti della stessa squadra che hanno dato una lettura della gara totalmente diversa. Allora ti domando, una mia domanda Giacomo, vediamo se mi sai rispondere. Io la prima cosa che ho pensato comparando queste due interviste sono Sainz aziendalista e Leclerc ribelle? Beh, insomma a vederlo, ascoltarlo insomma, sembrerebbe di sì, anche se le cose che dicono sono completamente opposte, no? Uno dice che addirittura neanche con le soft avevano il passo, mentre Leclerc dice che con le medie avevano il passo. In realtà abbiamo poi visto sia le medie che le soft andavano abbastanza bene, Max è partito con le soft e poi è passato alle medie. Non me lo so spiegare sinceramente, sai una cosa che ho notato in questa Ferrari è un Sainz molto più tattico di Leclerc. Sainz quest'anno un paio di volte si è corretto la strategia lui stesso, la Ferrari voleva fare determinate scelte e lui ha detto no, facciamo così. E ha avuto ragione, mentre Leclerc si è fatto un po' troppo gestire dalla squadra, oppure non si è riuscito a imporre diciamo quando era il momento. Al di là di questa affermazione, diciamo che veramente Leclerc sarà per quello che è successo a Monaco, sarà per quello che è successo a Silverstone, sarà per quello che è successo a Budapest. Ma veramente sembra essere veramente arrabbiato con la squadra. E soprattutto abbiamo visto un Leclerc più, l'abbiamo ascoltato, ho sentito con i team radio, molto più diciamo reazioni istintive, le urla a Monaco, le urla in Francia. Diciamo di sì, un Sainz più aziendalista, un Leclerc forse ribelleno ma più impulsivo ecco, se siete d'accordo. Esatto, sì sì sì. Per chi osare questo segmento.